Una scenografia mozzafiato, pronta ad accogliere da questa sera per le vie del Borgo Street Festival Edition, che animerà fino a domenica le vie del Centro Storico di Montefalcione. La manifestazione, organizzata dalla Proloco Emilio Ruggero insieme al Comune di Montefalcione, ha un programma ricco di musica, arte, cultura e gastronomia. Ogni sera, accanto alle tre street band provenienti da festival a livello nazionale, per ricordare i fasti dell'originaria manifestazione ci sarà anche musica internazionale da strada. Coloreranno i veicoli anche artisti di strada, installazioni e videomarking. E non mancheranno anche dimostrazioni di body art. Sempre presente quella che è la massima espressione del patrimonio folkloristico e demo antropologico dell'Irpinia, la Tarantella a Montemaranese. Dunque, per le vie del Borgo Street Festival Edition, da stasera a domenica, è pronta ad accogliere appassionati e visitatori con più di 60 artisti coinvolti per dare nuovo lustro a quella che è stata una delle manifestazioni di punta dell'estate della nostra provincia e che, con questa nuova formula, punta ad un posto in prima fila tra le kermesse più attese dell'anno.